Il premio Gazzola è sorto per volontà di tre associazioni nel 2006 e da 17 anni, questo è il diciottesimo, assegna un premio a un restauro di un monumento piacentino sia della città che della provincia particolarmente significativo. La scelta quest'anno del castello di Rivalta è dovuta a un insieme di interventi a carattere conservativo che la famiglia proprietaria, la famiglia Zanardi-Landi, ha portato avanti da oltre 60 anni fino ad arrivare a presentare ai visitatori un borgo in condizioni splendide che può essere considerato a ragione come uno dei borghi antichi meglio conservati della regione e forse anche di Italia.